TMZ.com ha pubblicato in esclusiva un videocook che riprende la izeta picchiato da Solange Knoeis, classe 1986, cantante, attrice e modella statunitense, sposata in passato con Daniel Smith e madre del piccolo Yulet Knoeis. Smith nato nel 2004, sorella di Beyonce, il rapper, imprenditore e produttore discografico, considerato da Forbes come uno dei cantanti più ricchi del mondo, con un patrimonio di circa 504 milioni di dollari, la stessa rivista ha eletto la coppia di coniugi come la coppia artistica più ricca del mondo del 2012, con un patrimonio complessivo che raggiunge quasi il miliardo di dollari, non è riuscito a tenere a bada la furia di sua coniata che, come mostra il video in maniera inequivocabile, gli dà calci e schiaffi, senza fermare il video. All'interno, dell'ascensore, dello standard hotel di New York. La scena era capricciante, e il video, che non ha audio, ma è ben visibile, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Il gruppo, Beyonce, izeta Solange, era in procinto di lasciare la sala dell'hotel, dove si era tenuto un after party, il gala del Met Costume Institute di New York, quando all'improvviso, la donna si è scagliata contro il cantante all'interno, dell'ascensore. Nonostante l'intervento, di una guardia del corpo, che ha provato a tenerla ferma, e ad evitare il peggio, la izeta è stato colpito ripetutamente, anche nelle parti intime. Nemmeno Beyonce è riuscita a fermare la sorella, scatenata contro la izeta. Al momento, tra l'altro, non si conoscono i motivi, che hanno spinto la ragazza ad avere questa brutta reazione contro il compagno della sorella. Stando, invece, ad alcune foto scattate, durante la cerimonia, la cno, sarebbe stata molto infastidita, ma non si riesce a capire, per quale ragione. Non registriamo, infine, alcuna dichiarazione da parte dei retti interessati. Chi se ne frega.